Ben trovati, buon pomeriggio. E allora Benevento, lo avete sentito, ma in molti altri comuni le scuole oggi sono chiuse dopo le 11 scosse di terremoto di ieri mattina. La protezione civile sta ispezionando gli edifici per le verifiche di staticità. I cittadini sono preoccupati. Andiamo a vedere la situazione con Francesca Ghidini in diretta. Buon pomeriggio da Benevento, clima decisamente più sereno. Oggi notte tranquilla, mattinata tranquilla. L'ultima scossa avvertita ieri sera alle 20.34, intensità 2.5. Scuole chiuse, lo dicevate da studio, ma già domani i studenti potrebbero tornare in classe. La mattinata dedicata ai sopralluoghi, alle verifiche sulla staticità degli edifici. E il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, chiede alla regione fondi per adeguare le strutture scolastiche. Sono rimasti aperte invece gli uffici pubblici, IMSS, Comune, ASL e il Tribunale. Resta in piedi la macchina della protezione civile, prosegue il monitoraggio dei geologi dell'Università del Sannio. Ascoltiamo queste interviste e poi la linea può tornare a Napoli. Arrivederci da Benevento. Stiamo registrando una sintonia sul piano istituzione, una collaborazione molto intensa ed efficace che serve comunque a rassalare i cittadini perché la cosa più sconvolgente è il panico che si crea. Ieri c'è stata la rigida del traffico, sono stati da sei momenti di autentica paura e poiché Benevento è stata afflitta nei secoli passati da problemi sismici, insomma qualche problema tavico persiste. Dobbiamo immaginare che lo stesso tipo di pericolosità che c'era ieri durante lo sciame sismico lo abbiamo anche oggi e ci sarà anche domani. Siamo di fronte comunque a delle profondi cicatrici che attraversano la catena penninica, un territorio decisamente votato ad accogliere questo tipo di eventi. Noi come Dipartimento di Scienze e Tecnologie in questo momento stiamo monitorando una serie di eventi di Frana, probabilmente il più importante dal punto di vista strategico è quello che interessa la strada statale 87 che collega la provincia di Benevento con la provincia di Campobasso. E attraverso una serie di sensori a terra noi riusciamo in tempo reale a capire quali sono gli spostamenti del corpo di Frana e se può andare ad interessare e quindi a bloccare la strada. All'alba ad Aversa una ex scuola abbandonata di...